La nostra Serena, che è entrata in un Loas, veste di giocatrice laterale nel 4-3-3. Come si è trovato quest'oggi a giocare? Molto bene, grintosa, su direzione del mister, scatto sulla fascia, cross e vai come Llorente. Grande, grande. Ora torniamo seri, una partita un po' a naspande con qualche attrito in campo. Ma state a pensare a Juve? Un consiglio, un consiglio, un consiglio alla squadra. Dobbiamo stare più uniti ragazzi, più uniti tutti quanti. Come una vera squadra. Da Torre è tutto, forza Juve!